La Commissione Medico-Scientifica Internazionale della Fondazione Teleton ha assegnato i fondi 2012 per le malattie genetiche a due progetti di ricerca abruzzesi. Il finanziamento di 275 mila euro andrà al progetto di Silvia Bisti dell'Università di L'Aquila e al progetto di Michele Sallese del Consorzio Mario Negri Sud. Salgono così a 5,9 milioni di euro i fondi totali stanziati ad oggi da Teleton nella regione. Proprio lo scorso maggio per la prima volta si è svolta a Lanciano una delle otto mini-maratoni Teleton a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche. La ricercatrice Bisti dell'Università Aquilana prenderà parte a un progetto multicentrico coordinato dal Politecnico di Milano dall'obiettivo molto ambizioso, creare materiali artificiali che possano sostituire i tessuti umani. Il progetto mira a curare forme di cecità ereditaria come la retinite pigmentosa grazie a una vera e propria retina artificiale. Si tratta di un'interfaccia tra le cellule nervose del paziente e un materiale organico semiconduttore in grado di captare gli impulsi luminosi, convertirli in corrente elettrica e attivare così i neuroni, mimando il processo naturale della visione. L'altro progetto abruzzese finanziato è quello coordinato da Michele Sallese del Consorzio Negri Sud, che in collaborazione con Roberto Chiesa dell'Istituto Negri di Milano, approfondirà i meccanismi molecolari di una rarissima malattia neuromuscolare di origine genetica, la sindrome di Marinesco-Sjogren. Già nei primi anni di vita, questa sindrome si manifesta con difficoltà di coordinazione dei movimenti e del linguaggio, debolezza muscolare che impedisce di sostenersi e camminare in modo autonomo, frequente cataratta congenita bilaterale. Obiettivo dei ricercatori Teleton è fare luce sui meccanismi molecolari della malattia, ancora in gran parte oscuri. Recentemente è stato dimostrato che la maggior parte dei pazienti presenta un difetto a carico di un gene chiamato SIL-1, che porta alla morte particolare in neuroni del cervelletto, ma non si sa ancora come e perché questo avvenga. Studiare come i difetti in questo gene provocano la sindrome potrà essere utile non solo per individuare possibili strategie terapeutiche, ma anche per chiarire i meccanismi di altre patologie in cui si osserva una degenerazione degli stessi neuroni. Quest'anno, grazie a Teleton, sono stati raccolti 11 milioni e 167 mila euro per la ricerca sulle malattie genetiche che consentiranno di finanziare 44 progetti rispetto ai 36 del 2011. Grazie a tutti!